Quando stavano crucifiggendo Gesù e i chiodi entravano nel suo corpo, non credo che Gesù pensava a quello, ma lui pensava al Padre e il Padre lo aiutava a sopportare il dolore. Ora tu, il tuo problema è che tu stai pensando molto ai chiodi, come i chiodi sono cattivi, i chiodi fanno male e i romani sono crudeli e gli amici mi hanno abbandonato. Tu stai pensando a queste cose invece di pensare al Padre, a Gesù, allo Spirito Santo che è sempre con te e questo che caccia il diavolo. Sì, anche sgridarlo nel tuo cuore a voce alta, cacciarlo e d'accordo, devi anche fare questo. Però, innanzitutto, il dovere della pecora è di guardare al pastore. La pecora può essere ferita, mezza zoppa, ammalata, infreddolita, con i lupi che ululano e gridano intorno all'ovile. La pecora non deve guardare al lupo, non deve pensare alle sue ferite, la pecora deve guardare al pastore. Ecco, questo ti manca a te. Tu stai guardando ai lupi, stai guardando alle tue ferite, stai guardando al tuo dolore, alla tua bulimia, alla tua onoressia, ai tuoi problemi. Stai davanti allo specchio e guardi a te stessa. E quello che vedi non ti piace perché sei sotto attacco del diavolo, lui ti colpisce perché con più guardi al nemico, con più si abbassa lo scudo della tua fede. Ed ecco che le frecce del nemico ti colpiscono e allora ti lamenti di più. E allora cosa devi fare? Non devi sforzarti di guardare a quello che fa il diavolo, al contrario, devi sforzarti nella mente, nel cuore, nello spirito, sforzarti di guardare a Gesù. E allora devi essere militante, militante, una soldatessa che si sveglia la mattina, prima cosa è Gesù, amarlo, ascoltarlo, benedirlo, di corsa, correre alla parola, mettere la tua mano sotto il cuscino e tirare fuori il tuo librato di memorizzazione. Le scritture da memorizzare, ecco, brava così, e poi ad ogni occasione, ogni occasione, minima occasione, quando puoi, perché a volte non è facile, a volte non sono le persone adatte, però quando puoi cercare di dare, parlare del Signore agli altri. Va bene, questa è una cosa che tiene il diavolo lontano, perché tu non puoi parlare di Gesù a qualcuno, può essere anche tuo marito, può essere tua figlia, puoi parlare anche alla bambina nel tuo grembo, parlagli di Gesù. Non puoi fare queste cose e allo stesso tempo pensare al diavolo, al male che gli sta facendo, la sua opera. Il soldato in battaglia può stare meditando, meditare sulla propaganda del nemico, sulle cose che il nemico dice, che sono quasi tutte bugie, oppure può meditare sulle istruzioni del comandante, il nostro caso è Gesù Cristo.